Ricordate, ce ne siamo occupati qualche mese fa, questa è quella che avrebbe dovuto essere la casa dello studente, la mensa universitaria, gestita direttamente dall'Adsu e che è l'emblema delle opere incompiute a Teramo. Eravamo entrati dal cancello che poi era stato chiuso, un po' di pulizia era stata fatta ma non c'è verso l'inciviltà, qui la fa da padrona perché come potete vedere il cancello è stato riaperto e dunque c'è l'accesso libero e diretto a questa struttura. Ma soprattutto non c'è solo l'accesso diretto, c'è ancora una volta l'inciviltà che porta al degrado, alla spazzatura e a tutto quello che ne consegue, compresi ovviamente la presenza di animali fastidiosi come i ratti che vengono a cercare del cibo nei sacchi della spazzatura. Come potete vedere questo è stato aperto, evidentemente è stato morso ed è tutta immondizia degli ultimi giorni, degli ultimi tempi, cioè dopo la nostra prima visita. Anche qui materiale laterizio, buste di plastica, il lancio del sacchetto è uno sport molto praticato da queste parti, quindi abbiamo un fulgido esempio. E addirittura c'è anche in questa zona un contenitore di plastica con del pane grattugiato lasciato qui e abbandonato qui. Si risolverà mai questa antica vicenda della casa dello studente e della mensa universitaria? L'ADSU continua a restare inerte di fronte ad una situazione di degrado come questa? Noi continueremo a denunciare, continueremo a farlo perché questi sono soldi anche nostri. E quindi è ingiusto non offrire un servizio e lasciare una struttura come questa completamente disabitata all'abbandono e alla mercè di tutti coloro che qui dentro possono entrare, possono fare quello che vogliono e possono anche stare lì, bivaccare senza che nessuno controlli.